Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video! Non so se qualcuno ha mai visto tutti i post che io faccio qua su YouTube quando si fanno tipo i post della community però in realtà il video che io volevo far uscire erano gli spoiler sul matrimonio che mi toccherà rifilmare quindi se sarò in mood stasera di rifilmarlo lo rifirmerò quindi lo pubblicherò non so quando però sì perché ho perso i dati di quel video quindi sono molto triste e soprattutto l'avevo montato e poi l'avevo perso quindi la cosa mi fa ancora più incazzare ma non importa! Adesso facciamo un altro video perché oggi sono in mood di fare questo video facciamo questo video perché è una cosa che mi hanno chiesto in tanti e che io non ho mai risposto veramente nel senso i miei amici lo sanno più o meno se me cagano però tanta gente mi ha chiesto sotto i video che lavoro fai? È stato utile studiare in Canada? Lavori per quello che hai studiato? E tutte queste belle domande che io ho invitato come non so cosa! E oggi è il momento della verità! Non aspettatevi qua horror stories! Semplicemente oggi questo sarà un video dove io mi lamenterò un po' come il video dove ho parlato della sanità canadese se ve lo siete perso ve lo lascio qua io e chi mi lamento? Bello! Sono i miei video preferiti! Quindi oggi parleremo del fatto cioè parleremo del mondo del lavoro qua in Canada io ho fatto già un video sul mondo del lavoro in maniera molto generale dove davo delle informazioni molto generiche Oggi invece parleremo proprio della mia esperienza e ripeto, mia esperienza quindi se per caso voi siete arrivati in Canada state facendo il lavoro più bello del mondo o siete arrivati qua solo con gli studi italiani e siete riusciti a diventare il braccio destro di Trudeau bravi! La mia esperienza non è così positiva quindi prepariamoci al... a mentarci mentarci, sì mi servirebbe un po' di vino però Allora, questo video probabilmente sarà molto lungo ma cercherò di farlo corto Iniziamo col dire che io sono venuta in Canada per studiare quindi io sono arrivata... ho fatto la mia triennale in Italia e sono arrivata in Canada e ho fatto la magistrale ho continuato gli studi che avevo iniziato in Italia ovvero io ho una triennale in traduzione e interpretariato e anche criminologia qua in Canada ho fatto una magistrale in traduzione letteraria ho studiato francese e inglese quindi giustamente quando sono arrivata in Canada ho studiato principalmente... ho fatto traduzioni inglese francese e francese inglese mentre in Italia facevo italiano inglese, inglese italiano, italiano francese e francese italiano bene, questa per farvela molto molto breve quindi cosa succede? in Italia c'è... anzi, forse un po' dappertutto nel mondo c'è questa tendenza che se vuoi fare il traduttore devi tradurre verso la tua lingua madre e io sono d'accordo però raga, la mia lingua madre non è manco l'italiano è il rumeno io il rumeno non lo so, ok? non lo so se io devo tradurre verso il rumeno non sarei mai capace dovrei stare lì a cercare ogni cacchio di parola quindi questa cosa che tu devi tradurre solo verso la tua lingua madre ovvero quella con cui sei cresciuta mettiamola così è una cazzata ok, fatevelo dire è una cazzata non è vero che qualcuno non può imparare una lingua a livello madrelingua perché io sto parlando italiano perfetto non mi va di tirarmela però io so l'italiano molto bene perché ho fatto comunque le medie, il liceo, l'università in Italia ho vissuto 15 anni in Italia prima di trasferirmi in Canada quindi credo che in 15 anni io sia stata capace di assimilare la lingua italiana va bene, perfetto quindi io ok, adesso ho la cittadinanza mi definisco italiana da 70 anni anche quando non avevo la cittadinanza perché effettivamente sì, io sono italiana quindi ok mi viene più facile tradurre verso l'italiano però io l'inglese lo so a livello dell'italiano il francese magari lo so un pochino meno rispetto all'inglese però comunque sono 4 anni che io vivo in Canada e di questi 4 anni 3 anni li ho vissuti in una città completamente francofona quindi io dal francese non sono mai uscita tranne per parlare con lui perché noi due parliamo inglese tra di noi perché odiamo il francese adesso mi chiederete perché minchia se andate a studiare il francese oh, il francese è molto utile al giorno d'oggi soprattutto se volete fare lingue lingua e traduzione studiate il francese mi raccomando che è la lingua del domani bene no, in realtà a me piace il francese semplicemente mi piace di più l'inglese lui è insegnante di inglese quindi c'è scusa eh no, in realtà è una storia molto divertente del perché noi parliamo inglese però magari lo lasciamo per un'altra volta per un video molto più felice bene, quindi cosa è successo? io sono arrivata qua oddio, c'è il sole che sta arrivando e fu molto probabilmente io in questo momento sono bianca cadaverica come se non lo fossi già quindi cosa è successo? io sono arrivata in Canada ho finito i miei studi non sono mai rimasta indietro non sono andata fuori sessioni mi sono laureata con grandi speranze grande felicità dopo aver finito gli studi mi sono trasferita a Montreal la città della speranza mi sono trasferita a Montreal pensando che il lavoro l'avrei trovato così perché ogni volta che io parlavo del fatto che studiamo traduzioni la gente mi dice oh my god cioè i traduttori fanno il cash oh mio dio il traduttore trova il lavoro così cioè proprio e io ovviamente mi illudevo anche di questa cosa perché a me le lingue sono sempre piaciute sono sempre stata portata per le lingue parlo quattro lingue a livello madrelingua poi ne parlo una a livello molto basico che non è il rumeno il rumeno lo conosco lo stesso insomma quindi sì mi sono trasferita a Montreal con tutte queste ero tornata l'anno scorso dopo quattro mesi in Italia quindi ero tipo yay che bello adesso torno una settimana me la prendo off per riposarmi per fare tutto in casa perché dovevamo sistemare tutto l'appartamento e poi mi metto a mandare curriculum e sono sicura che tipo in due minuti il lavoro mi ci saranno tipo la gente che mi chiederà di lavorare per loro dopo tipo cinque secondi non è stato così bene allora cosa è successo io sono tornata dall'Italia a fine luglio a fine luglio ho iniziato a mandare il curriculum ad agosto bene verso tipo il cinque di agosto perché il quattro c'è stato un matrimonio quindi ho detto mi prendo matrimonio con grande calma poi inizio a mandare il curriculum ho iniziato a mandare il curriculum ebbene come funziona il lavoro per il come funziona quando ti assumono per fare il traduttore solitamente ti dicono abbiamo ricevuto il tuo curriculum quelli gentili abbiamo ricevuto il tuo curriculum e ci piacerebbe inviarti un test tu fai il test ce lo rinvii e bla 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 e noi dopo valuteremo poi valuteremo se si va al colloquio effettivamente quindi all'inizio c'è stato un po' di gente che mi ha inviato un test dove dovevo tradurre dall'inglese al francese dal francese all'inglese dipendeva un po' per qual era il traduttore che cercavano altri dicevano direttamente abbiamo ricevuto il tuo curriculum ma non ce ne frega un cacchio non ti abbiamo considerata ok vabbè ci sta nel senso capita a chi non è capitato di inviare un curriculum e sentirsi rifiutati dopo manco aver tipo fatto un colloquio bene almeno qua in Canada c'è un nulla decenza di rifiutarti mettiamola così bene quindi passato un mese passato due passato tre sì siamo rifatti a ottobre in cui io ormai non ci avevo più dita per contare tutti i rifiuti che mi sono beccata senza nemmeno fare un colloquio senza effettivamente effettivamente non fare un colloquio quindi praticamente mi inviavano i test poi mi dicevano no non ti abbiamo considerata a un certo punto io mi sono incazzata e ho iniziato a chiedere alle persone però potete inviarmi gli errori del test potete inviarmi tipo le correzioni in modo che io possa capire dai miei errori cos'è che non andava in quello che ho tradotto mettiamola così in modo che io possa imparare per il futuro ecco cioè come esperienza personale perché non era una cosa falsa detta da parte mia proprio mi interessava per capire dov'è che avessi sbagliato quando si arrivava a questo punto non ho cioè zero nessuno mi ha mai risposto a questa email nessuno allora cosa è successo che io per tanti mesi sono stata sono stata veramente in depressione non mi alzavo momenti da letto piangevo sempre lui purtroppo non riusciva a capire molto questo mio mood perché diceva che mi abbattevo troppo facilmente solo che giustamente io sono fatta così io dopo i primi due rifiuti dei che ho mandato il curriculum basta per me era già tipo ok sono stupida nessuno mi vuole non troverò mai lavoro eccetera quindi sono stati dei momenti molto difficili perché avevamo il matrimonio avevamo le spese avevo un affitto da pagare giustamente i soldi uscivano ma non entravano quindi sono stati dei mesi veramente veramente orribili che non voglio neanche ricordare perché è stato semplicemente orribile quindi si sono stati momenti difficili per fortuna ho avuto Giorgia qua a Montreal che è stata una ragazza che appunto ho conosciuto tramite Youtube nel senso che lei mi commentava spesso i video è venuta a fare l'Erasmus a Montreal e grazie al Signore c'era lei perché solo l'avere una persona italiana vicino a me che mi incoraggiava che mi dava delle speranze mettiamolo così che mi faceva semplicemente uscire di casa è stato molto di grande aiuto e se non fosse stato per lei probabilmente boh non so cosa avrei fatto onestamente perché come avevo già detto io non ho amici canadesi lui per quanto mi possa amare non è canadese siamo sempre là cioè lui la sua boh cioè lui mi ama mi vuole bene ma non sempre capisce ciò che provo soprattutto quando si tratta di cose del tipo mi butto giù perché lui è la persona più positiva al mondo lui è tipo spongebob persone umane non sto scherzando bene quindi cosa è successo che quei colloqui che mi hanno chiamata stranamente mi hanno chiamata dei colloqui cosa è successo a uno dei colloqui vi rincotterò quello perché questa è stata la goccia che è andata a traboccare il vaso e quello che mi ha fatto capire che effettivamente io in Canada non ci voglio più restare bene perfetto sono andata a un colloquio era un colloquio per project manager non era neanche traduttrice era per project manager che in realtà è un bel lavoro perché quello che faccio adesso ci arriverò più tardi che ovviamente non fai la traduttrice fai la project manager quindi ti occupi dei progetti ricevi i progetti ti occupi di dare un prezzo al cliente poi se il cliente approva il progetto poi tu lo distribuisci ai traduttori una volta che è finito lo rinvia i clienti quindi è tutta questione di project manager gestione di progetto ecco quindi a questo colloquio è venuto fuori il fatto ma a te va bene che farai un lavoro che non c'entra con la traduzione nonostante tu abbia fatto traduzione e qua stiamo parlando di gennaio 2019 quindi quanto erano passati sei mesi da quando io stavo cercando lavoro no anzi era febbraio scusate era febbraio quindi sette mesi e io avevo detto purtroppo molti mi hanno rifiutato nessuno mi ha mai dato una chance per la traduzione non ho mai ben capito quale fosse la ragione perché voglio dire ho comunque dell'esperienza in traduzione ho fatto lo stage ho studiato in Italia poi ho fatto la magistrale canadese quindi voglio dire ho comunque una laurea canadese non è che io sono arrivata solo con la mia triennale italiana ho detto sì però c'è questi maledetti canadesi che non mi danno il lavoro cosa è successo? che a questo colloquio mi hanno detto una cosa che mi ha fatto raprivedere ovvero sì devi capire che però anche noi qua nella nostra azienda non prendiamo traduttori che non sono nati in Quebec mi hanno detto sta cosa e io ero tipo sono rimasta un po' balba e ho detto ho detto scusate posso farvi una domanda? non mi hanno assunto in quel posto comunque ho detto io adesso io vivo da 4 anni vivo in Quebec credo che il mio livello di francese sia più che buono perché anche loro mi hanno detto parlo in francese perfetto ho una laurea in traduzione letteraria francese inglese inglese francese e l'unica cosa che mi manca per essere che be qua è la cittadinanza quindi ho detto se io domani divento cittadina canadese voi mi assumeresti come traduttrice? sono state zitti un attimo e poi ho detto beh sì faccio quindi praticamente quello che sta tra me e voi è semplicemente un documento che dimostri che io sono canadese quando in realtà io non sono canadese quindi praticamente ho detto quindi praticamente tra voi c'è solo questa cosa del documento c'è se io vi si passo parato canadese in questo momento non vi avessi mai detto che io sono italiana poi mi avreste assunto perché avete visto un documento canadese e ho detto scusate ma questa cosa è triste perché non potete non potete dire che una persona sa la sua lingua che una persona sa la lingua solo perché è nato in Quebec un po' come in Italia perché non è che se uno che è nato in Italia è l'unico che conosce l'italiano io non sono nata in Italia eppure l'italiano lo parlo più che bene quindi ci sono rimasta molto male dopo questo colloquio ci sono rimasta veramente di merda perché ho capito che effettivamente quello che che era quella la ragione per cui le persone non mi assumevano non perché io non fossi brava nella traduzione o che non sapessi fare le cose era perché non ero né residenti o non ero cittadina ho fatto anche un concorso per il governo canadese per fare la traduttrice è un concorso che è durato un mese ho passato tutte le prove ho passato la prova di traduzione ho passato il colloquio e poi c'è stata un'altra cosa che non mi ricordo e fino all'ultimo mi hanno tenuta come candidata però per dirmi l'ultimo non ti abbiamo considerata e io ho detto posso sapere del perché non mi avete considerata perché questo concorso era aperto solo ai residenti del Canada o ai cittadini allora ho detto scusa stronza però questa cosa la dovete mettere nel concorso dovete scrivere nero su bianco non accettiamo chi non è residente o chi non è canadese perché io quando ho completato la mia domanda ho messo ho messo che ho il permesso di lavoro post studi questo era che mi scade l'anno prossimo e niente quindi io per tre mesi sono stata trascinata con questo concorso per farmi dire non ti abbiamo presa perché abbiamo dato la precedenza ai canadesi o ai residenti e niente quindi questo è quello che volevo dire ovvero che qua in Canada no non faccio ciò per il quale ho studiato sono comunque nel campo della traduzione perché appunto lavoro nel project management però non era quello il lavoro che io volevo fare quindi no non faccio il lavoro che voglio sì ho una laurea canadese che non è stata considerata da nessuno solo perché io non sono canadese quindi onestamente sono stata molto delusa da questa cosa trovo che ogni volta che dico parlo cinque lingue mi dicono oh mio dio che dallo ma poi in realtà qua in Canada gli frega solo del francese e dell'inglese quindi spesso mi sento anche sprecata qua in Canada per quanto riguarda la traduzione non in generale ma anche in generale in realtà certo mi sento sprecata in questo paese perché so di poter fare di meglio so di poter trovare un lavoro meglio di quello che sto facendo in questo momento io mi trovo bene con la gente con cui lavoro non mi sto a lamentare perché ci ho messo otto mesi per trovare un lavoro e quindi non voglio lamentarmi però è decisamente qualcosa che io non voglio fare tutta la vita non è qualcosa che mi interessa sì ho imparato cose nuove quindi saranno sicuramente utili nel futuro ma non è quello che voglio fare quindi sì se siete arrivati fino a questo punto mi dispiace che questo video sia stato così lungo però voglio anche dirvi di nuovo se voi avete sviluppo un'esperienza diversa se voi vi state trovando bene se siete contenti di ciò che avete in Canada io sono contenta per voi io sono assolutamente io adoro il Canada ok io adoro questo paese però purtroppo la cosa del lavoro mi ha fatto aprire gli occhi sul fatto che effettivamente non è così inclusivo nel senso il Canada ha sempre questa reputazione di essere inclusive di dare la possibilità a tutti e tutto quanto poi però si fermano a questa cosa che se non sei residente o se non sei cittadina vai in fondo alla lista e io ho un permesso valido di studi ho applicato anche per la residenza in questo momento però sì non sono stata considerata per causa di un documento quindi tante volte mi sono arrabbiata proprio perché mi dicevano direttamente non sei francofona non ti possiamo prendere non ti possiamo prendere alcuni mi hanno addirittura rifiutato tramite email dicendomi sì però abbiamo visto che tu vieni dall'Italia quindi non sappiamo se sai il francese ok fammi un colloquio fammi un test cerca di capire le mie capacità quindi diciamo che non sono contenta di come è andata a finire questa cosa mi ero illusa tantissimo sul fattore lavoro ma ho avuto tante tante botte sui denti e non sto dicendo che solo in Canada sia così forse dappertutto sarà così però allo stesso tempo trovo che questa cosa sia stata un po' ridicola poi vi dico magari sono sfigata io sono sfigata io che ho avuto questo genere di esperienza però appunto non sono contenta cioè sicuramente non sono contenta perché ho fatto una magistrale in Canada che è costata tanto perché sono stata una studentessa straniera quindi le studenti stranieri come me sapete pagano un casino di soldi ho studiato come tutti gli altri ho avuto una laurea che anche gli altri hanno preso mentre la lavoro da me per dirvi per dirvi cioè ogni tanto scopro cose è che ci sono traduttori traduttori che lavorano nella nostra azienda che manco hanno finito ancora la loro triennale ma siccome sono chi be qua si meritano il posto di lavoro quindi l'unica cosa che mi sento dire è che sono contenta che qualcuno almeno qualcuno abbia deciso di darmi una chance e di farmi lavorare comunque nel campo nonostante io non stia lavorando nella traduzione sto comunque lavorando nel campo della traduzione quindi assolutamente non sono ungrateful o robe simili sono grata di aver trovato comunque un lavoro che c'entri un minimo con quello che ho studiato però allo stesso tempo quando vedo che c'è gente che ha manco affitto alla letterina o c'è una traduttrice o c'è altra gente tipo del project management che tipo hanno fatto boh lauree in storia o cose simili mi sale un po' il crimine ok quindi niente io la smetto adesso di blatterare perché questo video sarà molto lungo però se siete arrivati in fondo fino a qua vi prego mandatemi un coriccino dite che mi volete bene perché sono triste niente no basta sto scherzando niente noi ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se magari avete subito anche voi delle ingiustizie simili che sia in Italia che sia in un paese straniero che sia ovunque perché sono sicura che le ingiustizie ci sono e le ingiustizie ci sono ovunque solo che non ho mai sentito parlare di ingiustizie cose ridicole del non c'è il documento bene la smetto di lamentarmi noi ci vediamo alla prossima volta ciao ciao